Quindi Attenzione, su questo canale si utilizza un linguaggio esplicito e comune si propone un tipo di comicità irreverente in cui spesso vengono usate parolacce e volgarità in genere Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti vi consiglio di non visionarne i contenuti Ma che c***o si dovrò dire more Ogni settimana devo cominciare il video con un ringraziamento perché non smettete mai di stupirvi Fioi Siamo arrivati al tanto agognati 100.000 iscritti Bravo, bravo, bravo Un filo applauso, applauso per tutti i bravi Bravi, bravo Bons, bons Sì Ci abbiamo messo due anni però ci siamo arrivati Con calma, piano piano 100.000 fioi, 100.000 scoppiati Mi piace, mi piace Cioè i ringraziamenti sono ormai anche insufficienti, insufficienti Comunque vi informo che la squadra 0775 riapre l'academy Che cos'è l'academy? Dovrete semplicemente cliccare il link in descrizione del gruppo Facebook i maniaci di FIFA Entrate a farne parte così Ci saranno dei trainer messi a disposizione dalla squadra, ovvero i pro player Con la quale potrete confrontarvi Loro faranno dei post dal lunedì al mercoledì su questo gruppo A voi basterà scrivere sotto questo post Vorrei confrontarmi, vorrei qualche consiglio Loro vi invitano, fate la partita, vi pigliate le peggio scopole E poi vi diranno a fine partita dove sbagliate Come potete migliorare il vostro gameplay, eccetera, eccetera È tutto gratis, fioi Io vi consiglio di usufruirne di questo servizio Anche perché lo faccio anch'io Io mi prendo le sberlacce più infinite Però comunque piano piano sto migliorando Io ne approfitterei se fossi un gol Poi fate come cazzo vi pare Bando alle ciance Vi ricordo sempre Dov'è? Dov'è? Vi ricordo sempre I miei cari fioi Che mi trovate qui Ogni pomeriggio A streamare Vi lascio il link in descrizione Trovate tutto in descrizione Anche Instagram Instagram C'è da dire Oltre ai 100k 50k su Instagram raggiunti ieri 40.000 su Twitch raggiunti anche oggi C'è veramente un supporto planetario I miei coglioni decantano l'Iliade A parte le stronzate Questa settimana Andiamo a aprire i miei premi Adesso Quelli di Andreas as always E poi Quelli di Sanguinetti Golosi Vediamo un po' Eh? Eh? Uh Come scusa? Il ma se ha fatto fuoriclasse? Ma Chi è che te? Sapete cos'è? Si chiama Nirvana per me Con tutti quegli stronzi che mi dicevano Montati delle mani Impara a giocare Gni 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 gna 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 Adesso cosa cazzo dite? Natà E questi sono i miei coglioni E prendeli in bocca Prendeli tutti in bocca Vecchio mio Vecchio mio Fuoriclasse 3 fioi 2.000 punti 70.000 crediti Pacchetto giocatori rari Pacchetto premio Team of the week E la scelta I pick Quelli golosi Quelli che non mi daranno un cazzo Che non mi daranno un cazzo Primo Primo Demi Arbai Foster Bellarabi E Zardes Prendo Bellarabi Vero vero Andiamo a destra Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì me la scopo tutta, me la scopo tutta ma no, ma no ma no Suarez ma no Suarez 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 ce l'abbiamo Dammelo 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 il pic di destra è sempre quello più benedetto Luis Suarez Luis Suarez da cui non ci credo non ci credo chi se ne pote e prendiamo poste l'ho trovato l'ho trovato non ci credo Luigi il cannibale il cannibale che ti mangia ti mangia mio è un infarto mio è un infarto faccio il fuoriclasse e trovo Suarez questo è il coronamento della mia settimana Suarez if 100.000 iscritti fuoriclasse 3 su fifa e i rosiconi muti silenti silenziosi silenzio si sono fuori di testa vatti a curare si si psichiatri studiatemi partiamo con il 100k non è walk out sti cazzi non è walk out si apre si apre bandiere portogallo cdc william carvaio di maria angelo vizel begovic siri terro ciao 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 pacchetto premium team of the week non è walk out fioi germania cdc quello che mi ha dato prima the nearby no non lo disdegno non lo disdegno buono per sbc la 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 let's live in the moment fioi ci rivediamo sull'account di andre siamo dentro all'account di andrea sanguinetti 0775 sport vediamo un po' come si è classificato lui questa settimana anche lui fuori classe 3 2000 punti as always 70.000 crediti 100k 3 team of the week e i pick da 5 emulerei quello che ho fatto con il mio account partendo da sinistra andiamo a destra e poi centrale pablo sarabia foster affilato sharp sancho e mancini mancini amantino pablo sarabia io ti detesto uuuu la 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 let's live oiii uuuu che sfiga dai ma perchè devo fare il contrario se sul mio ha funzionato in quella maniera devo fare il contrario ultimo ultimo dai demir vai vegorst sancio hilton e nani ma dai ma per cortesia sto iconati alla gola nani 5 stelle 5 stelle però gesbolo fioi che pic malvagissimi crudeli vomitevoli abbiamo 24 pacchetti poi potremmo sculare qualcosa iniziamo dai pacchetti oro e andiamo sempre più su se trovo qualcosa lo metto ma quando trovo una seda allucinante pacchetto giocatori oro rari eh magari oh walk out da sta merda walk out da sto pacchetto di merda germania l'eroe l'eroe sané da un pacchetto di merda l'eroe 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 da un pacchetto oro giocatori oro giocatori oro con uno raro l'eroe sané l'eroe sané da un pacchetto oro raro uno ce n'è uno di raro uno porca puttana che buco di culo fermi tutti pacchetto mega walk out spagna giordi alba praise the sun alba alba da un pacchetto mega alba almeno bandierine 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 colombia attaccante e radamella il falco forte forte per l'SBC entusiasmante erano belli i tempi in cui era forte questo uomo ricordiamolo con gioia e clamore ha avuto anche un team of the year e falcao non so se rimembrate abbiamo un pacchetto ultimate e due pacchetti da 100k adesso datemi del cazzo di walk out non ho fatto niente dai mi pigliate per il culo gli esports adesso con tutto rispetto ma costano 20 euro costano 20 euro infatti non poteva essere Manolas perchè è in forma brutto e imbecille non puoi dirmi è Manolas è Socrates giustamente Schulewamata da un 100k altro 100k io spero che tu mi dia un walk out ti prego ma stai scherzando però comunque dai ma chi è johnny cric gianini cric megadà baccaio coccolaro sa sueta oh pacchetto ultimate 25 cazzo di euro walk out la manota la manota pablo sarabia walk out ragionai in golan quanto vale ragionai in golan quanto vale ninja 120k di giocatore sè 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 questo è andreas 17 ragazzi andreas è così è uguale identico ci sto ci siamo fatti i 125 del pacco pacchetto oro faffanculo non ci credo non mi ha dato neanche un walk out brasil hilton hilton ma no parisilton 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 mi viene da ridere ma mi viene da ridere mi viene da ridere perchè in 200k non mi ha dato un cazzo di walk out giannini ah poi è un altro goldon che non mi ricordo me lo aspetto da un pacchetto da 7500 ma no da un 100k dai ci vediamo sull'account di andreas dai siamo nell'account di andreas intanto andiamo a vedere il food champions come è andato oro 1 ha detto che era una tiltata c'era lo script vabbè sta weekend league c'è stato uno script che era schifoso comunque 2000 punti 50.000 crediti 2 da 100k e 2 pick guarda vaffanculo ernanì maledetto eroissimi o no ma ma sto begrost me l'ha dato sempre demi rbai e hilton parisilton oggi c'è lassù con parisilton questo gioco del cazzo mamma mia ragazzi pafo il papero che merda che schifo che sbratto totale mamma mia che sbratto infinito il papero giannini demir bai vegrost ancora me l'hai dato ancora insiste e dove mi sei incastrato il filo ma va a cagare un po' il nè mi metti nel club per cortesia mi metti nel club ma no ma comprate due server in più di merda cortesia fate i miliardi non va un cazzo non va un cazzo sono qua sono qua dalle otto a registrare sono qua dalle otto e mezza a registrare e sono le undici e mezza perché non riesco a entrare negli account ma dai un walk out un walk out non mi hai dato un cazzo fino adesso un walk out pic di merda stononzi e basta giuliano giuliano da un 50k giuliano cosa mi ci pulisco il buco del culo con giuliano prendo la cartina faccio così oh carta bella dorata incredibile con un po' di merda sopra che pizzico di twist mamma mia eccezionale buonissimo buono per far da carta igienica giuliano dai dammi sto walk out e dammi sto cammino fuori e dammi sto in forma e dammi Pablo Sarabia ancora ma no mi ha ridato Pablo Sarabia cioè lui è Andreas è uguale a Pablo Sarabia un walk out e Sarabia ma ti pare normale ma cosa sei modrio dire che sbolo ma neanche bandiere da un 50k ma chi è Jarkenshlein gegen Düsseln Jarnstein Jarnstein da un 50k pacchetto giocatori rarimaxi un 100k un 100k non è walk out non è bandiere Forsberg 20 euro 20 euro del pacchetto walk out walk out all'ultimo dai eh seriamente seriamente che lord navas che puzza di merda questa settimana ho avuto un culo grosso come una casa a trovare Suarez per gli altri non ho trovato un po' costa effettivamente questi sono pacchetti premio quindi sono gratis però comunque è un pacchetto da 100.000 crediti non puoi darmi un 82 di generale come miglior giocatore dentro un pacchetto da 100.000 crediti non puoi darmi un 82 di generale da un pacchetto che se lo compro mi costa 20 euro o abbassi il prezzo del pacchetto o alzi la probabilità di trovare qualcuno di buono ma non puoi mettermi Forsberg nel pacchetto da 100.000 dai perché veramente è una fustigazione coglioni questa settimana malvagia settimana crudele spero che questo pacco per in vi sia piaciuto io rinnovo i miei ringraziamenti nei vostri confronti fioi perché 100.000 iscritti in questo mese 20.000 nuovi iscritti io non ho mai visto una cosa del genere quindi un ringraziamento speciale va di sicuro a voi per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto io vi ricordo di lasciare un bel like fioi tutti i link social li trovate in descrizione twitch, instagram i vari gruppi del team 0775 li trovate sempre lì in descrizione e noi ci becchiamo alla prossima IGNARANTATA